Un pomeriggio insieme in piena atmosfera natalizia, alunni della scuola dell'infanzia, genitori e docenti. Appuntamento ieri verso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Via Salonico. Gli studenti si sono esibiti con lo spettacolo musicale e teatrale Babbo Natale smemorato e hanno presentato in chiave natalizia le attività e le competenze maturate nella scuola primaria. Abbiamo utilizzato il Natale perché è una festa che unisce e a maggior ragione in questo caso realizziamo uno spettacolo natalizio rivolgendole e offrendole ai bambini di 5 anni, proprio come spettacolo ponte che unisce la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. È un momento già di apertura, la scuola fa orientamento durante tutto l'anno, ma a maggior ragione nei momenti di sintesi, diciamo di condivisione, nei momenti più importanti dell'anno sviluppa delle attività che possano presentare anche ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia, in questo caso le abilità e le competenze che i bambini della scuola primaria gradualmente acquisiscono durante gli anni. Abbiamo scelto quest'anno i bambini di seconda primaria, di seconde classi primarie, perché sono i bambini più vicini, in questo caso come fascia d'età, anche un po' più maturi rispetto a quelli delle prime classi per esternare il loro pensiero, ma ancor più per condividere con i bambini di 5 anni il progetto scuola. Scuola insieme, scuola viva, scuola aperta. Buon appetito a tutti!